Il posto è chiuscito con gli ammi al fianco, mi dirai che la destinazione vale a sì, è la destinazione vale a sì. Quindi è scaricabile su iTunes e tutti gli stories digitali per fare un'opera di bene, insomma, e sono felice di aver dato questo piccolo contributo. Non so se dovete dire altre cose, penso che... Grazie a te per aver organizzato questa bella serata. Grazie a te Lino comunque di essere intervenuto, grazie a tutti, grazie al Presidente del CAI che ci ha offerto anche questa sua esperienza. Ringrazio anche gli amici di Stanete che mi è venuto a trovare e tutti gli amici, anche Fabrizio che comunque ha organizzato, l'avventrice Ombretta del Monte, la nostra amica cantante che ha cantato queste bellissime cose. E chiudo con questo, quando Giovanni Paolo II ci ha lasciato, ha chiuso gli occhi al mondo, ma mette i nostri occhi. Grazie a tutti. Applausi 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 Grazie a tutti